L'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale dell'immobile e di tutto il parco, cioè il compendio Maddalena, per un importo di 2.600.000 euro. Un immobile libero da persone e cose e da ogni vincolo, così come era stato individuato con la delibera di giunta di fine agosto 2016. L'amministrazione comunale nell'agosto del 2015, il 25 o il 26, per esattezza, individua grazie al bando del 28 dicembre 2015, numero 208, bando di riqualificazione delle preferie urbane, zone degradate, cosiddette, individua in quel momento il compendio Maddalena e il suo parco, nella sua interezza. In quel momento si concretizza un atto, una volontà politica che è di riqualificare quell'area. Nel percorso di questi due anni sono successe, accadute altre cose, ma sempre in linea con quanto deliberato. Naturalmente essendo un immobile di proprietà dei privati, noi abbiamo intrapreso un percorso coinvolgendo i privati. Noi domani con la delibera del Consiglio comunale avremo il mandato per competenze e per responsabilità politiche noi e amministrative i dirigenti di sottoscrivere un atto di compravendita. Noi andremo ad acquistare l'immobile Maddalena con tutto il parco per una cifra di 2 milioni e 600 mila euro, che era poi già la cifra che avevamo ipotizzato, ecco perché ho citato la delibera del 26 agosto 2016. Quell'immobile, tutto il compendio è stato valutato dall'Agenzia delle Entrate 3 milioni 955 mila euro. Noi lo acquistiamo per 2 milioni e 6. Punto. E andremo a restituire alla città quella parte di parco giochi dove tante nostre famiglie, mamme, papà, nonni, zii e cugini e tutti si recano quotidianamente con i propri nipoti, figli, amiche ed amici, ma che però vedono quell'orribile rete arancione che la separa da una parte importante del parco. Il parco nella sua interezza è 34 mila metri quadrati. Voi lo sapete ci sono piante secolari, abbiamo un vincolo da parte della sovrintendenza delle Belle Arti di Verona anche per quanto riguarda l'area del parco. La superficie dell'immobile è di 12 mila metri quadrati, ok? Suddivise in tutti i piani. Ci saranno 2.600 metri quadrati di archivio comunale, poi ci saranno il primo piano e il secondo piano, quindi per una superficie circa di 4.600 metri quadrati, destinata ad uso ufficio. Terzo piano, la parte centrale, verrà recuperata come sala polivalente, poi abbiamo l'ultimo piano, il quarto piano, dove ci sarà tutto il fotovoltaico, delle grandi terrazze. L'importante è che all'interno comunque di questa rimodulazione ci saranno comunque i 5 chilometri circa delle strade che sono elencate nella delibera. Illuminazione pubblica con 94 punti luce. Parliamo di 13 milioni e mezzo, punto. Meno 2 milioni e 6, è una cifra importante. Di più di prima. Il cofinanziamento dove sta? Uno dice, no? La domanda sta nella valutazione dell'Agenzia delle Entrate di 4 milioni di euro e l'amministrazione comunale acquisisce il parco di 34 mila metri quadrati e i 12 mila metri quadrati dell'immobile a 2 milioni e 6. Perché andremo a sottrarre al territorio una voragine nera dove sappiamo tutte le dinamiche anesse con esse, dove il sindaco, prima autorità nel territorio per l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, a titolo anche a presidiare il territorio. Tutte le dinamiche che Reale e Cefil hanno con altri soggetti, a noi non interessano. Perché io arrivo dal notaio, andrò dal notaio a sottoscrivere un atto di compravendita, io rimango fermo sulle mie posizioni. Se attorno a me tutti gli altri girano, io sono fermo. Sono fermo, ma non perché immobile, perché produco degli atti. E quando dico che l'area si riqualifica, si riqualifica. E quando approvo in giunta, 25 agosto, un atto, vado avanti. Poi qualcuno, succede, ragazzi, succede anche quando puoi fare un preliminare di compravendita, chi te la deve vendere cambi idea, perde la caparra, adesso non fraintendete. Si può anche cambiare idea, no? Quando sono intervenuto, l'ultima volta a giugno, presso i giardini pubblici della commenda, sono entrato nell'area pubblica, ho constatato che la rete era aperta, ho chiesto un intervento della polizia locale. E insieme alla polizia locale siamo entrati, perché dall'interno provenivano delle voci. Infatti all'interno dell'area interdetta c'erano delle persone. Abbiamo prodotto un atto, è sottoposto alla firma dei privati, ok? Per trovare un accordo. In prima istanza l'ha sottoscritto solo un socio, ma non voglio parlare di chi non c'è. Dopodiché ci ha pensato un po' e ha sottoscritto. Viva Reale, viva Filon, viva Bergamin, la sua giunta, la squadra e il gol. Punto. Questo conta. La sofferenza di quando passi vicino lì e vedi che c'è questa rete. O quando scendi dalla macchina, parcheggi e entri nel parco e chiacchieri con la mamma, con il papà, con il nonno. Non sono ancora nonno, però... C'è anche sentimento, sofferenza, amore. Quindi quando, come dire, vorresti fare una cosa ma non ci riesci per tutta una serie di situazioni, soffri. Se sei una persona che ama il proprio ruolo, la propria missione, il proprio programma, soffri. Oggi è anche una liberazione, insomma. Poi, attenzione, deve essere il consiglio. Domani. 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 Domani.